Sto riprendendo, scusate, anche qui, fighiateci al 5,7 o in mezzo alla pilina? Cambio. Grazie. 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 Vengo da voi il 15 novembre. RG Impianti e Romea. C'è venuto il pallino da voi? No. Non c'entra. Se non vengono loro, io non posso venire. No. 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 Grazie mille. 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 Grazie. 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 E Giovanni Righi viene con mascoli con Troncona, Puntello, 69, Traini, 17 minuti, in attesa di una partita del bigliardo 7 più obbligibile delle nostre telecamere. Grazie. 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 Grazie.